Musica Benvenuti alla consueto appuntamento con il nostro telegiornale apriremo parlando di una sala giochi che è stata sequestrata ad Acireale nella frazione di Santa Maria Ammalati ma intanto occupiamoci di un morto infartuato nella zona di riposto chiamati i soccorsi, l'ambulanza più vicina è potuta partire da lingua glossa per l'uomo però non c'è stato niente da fare, è deceduto e tutto questo alimenta una volta di più le polemiche in atto già da parecchio tempo in riferimento alla chiusura, alla soppressione del nosocomio di Giarre ha approfondito la tematica, Melo Nicodemo, vediamo Ancora una morte che suscita rabbia nel comprensorio Ione Chetneo dopo la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Giarre un uomo è colto da malore e ha riposto i familiari, come succede in questi casi, chiamano immediatamente il 118 il cui centralinista smista la chiamata all'ambulanza più vicina rispetto a chi chiama fatalità vuole nel caso di unispecie che la prima ambulanza disponibile si trovi a lingua glossa considerando il tracciato stradale, considerando i chilometri da percorrere considerando che dal luogo del prelievo dell'ammalato bisogna andare al pronto soccorso di Giarre si può fare il calcolo dei tempi accorrenti e delle conseguenze che spesso si hanno l'unica realtà oggettiva è la morte dell'uomo colpito da infarto naturale la rabbia conseguente sia nei familiari che nei paesi che pagano che negli abitanti dei paesi del comprensorio sulla cui pelle viene fatta la riforma sanitaria mi sa che non si comprende fino in fondo la gravità della situazione e quello che è triste e lo dico sempre è che l'unica realtà dove si è sperimentato che il modello organizzativo che si voleva implementare era fallimentare è stato proprio Giarre perché è l'unica realtà dove è stato chiuso il pronto soccorso, questi sono i risultati quindi io mi auguro veramente che su questo ci possa essere un ripensamento più generale, una prima emergenza, un'emergenza che permetta di stabilizzare un paziente e poi trasferirlo eventualmente nelle sedi dove c'è una presenza più organizzata a poter dare risposte più gravi deve esserci vicino dove c'è la popolazione che risiede, se una legge dice che con 80.000 residenti c'è bisogno di un ospedale di base di un pronto soccorso, un parametro del genere non nasce per caso, nasce perché evidentemente c'è la necessità di dare una risposta immediata Un altro morto ancora? Intanto al nome del comitato cittadino porgiamo il doloroso coldoglio a tutta la famiglia noi saremo vicini perché questo è l'ennesimo caso di tutto ciò che noi da diverso tempo temevamo e che puntualmente purtroppo si è verificato è un momento di silenzio e dolore per tutta la cittadinanza del compensorio giarese E adesso alcune notizie in riferimento a degli arresti i carabinieri della stazione di Catania e Piazza Verga hanno arrestato in fragranza il 31enne catanese Giovanni Farro, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso aveva sottratto la borsa ad una donna e ancora i carabinieri invece del comando provinciale hanno arrestato il 43enne catanese Antonino Raimondo eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Catania deve scontare una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione ancora invece i militari dell'arma di Grevina di Catania hanno arrestato in fragranza il 47enne Salvatore Buscema per responsabile di detenzione finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato tradotto nella carcere di Piazza Lanza ha implicato nella vicenda anche un nipote invece relegato agli arresti domiciliari e per quel che riguarda invece il commissariato di Inesima unitamente a personale della Polizia Provinciale hanno effettuato un controllo amministrativo in un'attività di autodemolizione a Mister Bianco nella frazione di Poggio Rupe il titolare aveva attivato un esercizio di autodemolizione d'officina meccanica senza la prescritta autorizzazione creando di fatto una discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti con liquidi e oli inquinanti e adesso andiamo ancora a Catania perché si profila l'orizzonte dell'elezione del nuovo rettore dell'Ateneo Catanese in tal senso ha ritirato la propria candidatura il professor Filippo Drago lo ha incontrato Sara Rinauto Cinque giorni al voto per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Catania è ufficiale, fa un passo indietro personale come era già nell'aria il terzo candidato Filippo Drago il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotech ha deciso di dirottare i suoi sostenitori verso il favorito Francesco Basile quest'ultimo potrebbe ora essere eletto al primo turno il prossimo primo febbraio io di fatto ho cominciato la mia attività in termini di candidatura il 7 di gennaio gli altri due colleghi hanno iniziato molto prima quindi la mia è stata una candidatura tutta in salita le difficoltà sono state man mano superate però a 4-5 giorni dalla prima tornata di votazioni mi rendo conto che per ottenere un risultato concreto per il bene di questa istituzione sia necessario convergere su un'unica candidatura e dunque accordo Drago Basile è l'insegna della continuità con l'uscente Pignataro mentre resta come unico avversario Enrico Foti non più sotto l'ala di Antonino Recca come risponde al candidato Foti che ha parlato in queste ore anche attraverso la stampa di piccolo cabotaggio? ma guardi io penso che Enrico Foti che peraltro è una persona che ha sempre avuto un atteggiamento molto rispettoso diciamo dei ruoli abbia scritto quello che ha scritto solo perché si trova in difficoltà penso che sia un colpo di coda che si deve al fatto che con questa novità della unica candidatura diciamo dello schieramento che fa riferimento al professore Pignataro probabilmente ecco si trova in minoranza a livello personale qualche considerazione un po' di rammarico? nessun rammarico credo che sia stata un'esperienza per me molto arricchente io ho toccato con mano e ho conosciuto realtà che non avrei conosciuto altrimenti oggi posso dire di essere sicuramente più ricco di esperienza conosco persone che mi hanno dato la loro piena solidarietà dimostrandomi anche affetto e parlandomi anche di problemi che non conoscevo e adesso la pagina politica stamattina Sara Rinaudo ha incontrato nello Museo Meci è stato fatto il punto su quella che è la situazione la condizione della protezione civile ma si è parlato anche di primaria in vista delle stesse per quel che riguarda il centro-destra sentiamo in Sicilia vi è un problema di protezione civile e in una terra d'alto rischio su più fronti questa non può essere considerata l'ultima delle priorità del governo regionale il problema è politico non usa mezzi termini Nello Musumeci capo dell'opposizione e numero uno dell'antimafia regionale intervenuto all'Ars sulle conseguenze del maltempo c'è un problema di risorse anche? c'è un problema di risorse perché c'è un problema politico perché la protezione civile non porta voti non fa clientela non alimenta gli apparati i parassiti ecco perché per il governo Crocetta ma non è che prima si stesse meglio per il governo Crocetta la protezione civile è l'ultima priorità ed è davvero un suicidio questo perché il diritto alla vita il diritto alla sicurezza prima di essere un diritto costituzionale è un diritto fisiologico Musumeci ha chiesto una seduta ad hoc sul tema chiamando a raccolta i colleghi parlamentari intanto è conto alla rovescia per le primarie del centro-destra in vista delle elezioni regionali Musumeci annuncerà ufficialmente la propria candidatura il prossimo 4 febbraio a Caltagirone ci si prepara alle primarie del centro-destra c'è una data? tra due possibili date dal 19 di marzo al 2 di aprile poi ci sono le comunali a Palermo quindi non si può andare oltre Da più parti si dice che questo potrebbe essere il momento del centro-destra le vicende del Movimento 5 Stelle e il malcontento verso il governo attuale centrano qualcosa? Io credo che questo sia il momento non per il centro-destra ma per le persone per bene per i siciliani che non si vogliono rassegnare all'idea di essere ancora governati da un governo che risponde soltanto alle logiche dei potenti romani e che non ha saputo affrontare un solo problema ecco per questo noi diciamo andiamo oltre il centro-destra partiamo da valori che sono condivisi e riconosciuti ma guardiamo anche a una larga fetta di elettorato che non ha mai votato per il centro-destra Torniamo alla notizia d'apertura il sequestro di una sala giochi nella frazione accese di Santa Maria Ammalati Salvo Cutoli Una bisca con annessa sala giochi completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla polizia del locale commissariato a Santa Maria Ammalati frazione a nord di Ecerale in provincia di Catania ad insospettire gli agenti di un avvolante in servizio di controllo del territorio l'andiriviere di persone nei pressi di un anonimo garage sia di giorno che durante le ore serate il blitz predisposto dal dirigente Giovanni Marziano ha permesso di smantellare l'attività illecita e di segnalare all'autorità giudiziaria due soggetti all'interno della rimessa erano presenti diverse slot machine in un tavolo verde erano seduti diversi avventori impegnati a giocare a carte non c'erano soldi ma fisce come le più importanti casinò dal presunto gioco d'azzardo ai più innocenti giochi di gruppo come il calcio balilla e il biliardo per venire incontro alle richieste degli appassionati del genere una macchinetta scambia soldi assicurava il continuo cambio di denaro necessario agli scommettatori richiamati dalla vasta offerta di giochi all'interno del locale operava anche un abbiatissimo bar che somministrava alcolici e superalcolici ovviamente senza autorizzazione tutto filava liscio gli affari andavano a gonfevele anche perché come hanno accertato gli investigatori i videopoker non erano collegati alla rete telematica e al sistema nazionale che governa questo tipo di attività per il quale sono necessarie autorizzazioni rilasciate dai monopoli di Stato e dal locale commissariato che ignorava l'esistenza della sala giochi abusiva l'attività è stata posta sotto sequestro assieme alle tre macchinette mangiasoldi e al denaro in contanti trovato in cassa i due gestori della sala giochi priva di autorizzazioni sono stati denunciati a piede libero Restiamo ad Acireale perché si avvicina a grandi passi la manifestazione carnascialesca del più bel carnevale di Sicilia 2017 stamattina siamo andati nei cantieri la cittadella del carnevale per vedere a che punto sono le opere di cartapesta Salvo Coturi 23 giorni al via ufficiale più bel carnevale di Sicilia siamo in uno dei grandi capannoni dove si preparano questi grandi carri allegorico grotteschi tutti in cartapesta con meccanica particolarmente ricercata e anche elettroniche e siamo con Luciano Scaria che è uno dei cantieri storici del carnevale di Ecirale che è anche consigliere comunale dunque è tutto pronto consigliere? Sì, siamo nelle fasi finale nelle rifiniture quindi ci apprestiamo ad affrontare quest'altra bella manifestazione augurandoci che il tempo ci accompagna in qualche maniera così magari ci possiamo non solo lavorare noi divertirci pure noi perché alla fine quando portiamo noi le nostre opere cerchiamo di divertirci in qualche maniera pure noi e faremo divertire il pubblico che viene a più bel carnevale di Sicilia Io l'ho presentata non a caso come consigliere comunale perché l'hai impegnato in prima linea su quello che è il nuovo impegno per quanto riguarda il carnevale che è rimasto l'unica manifestazione più importante in città ma anche una delle più importanti in Sicilia i capannoni sono stati la cittadella sono stati sistemati adesso la situazione è come? C'è stata una spesa importante? Sì, c'è stata una spesa importante sì abbiamo ottenuto diciamo in qualche maniera un po' di dignità rispetto agli anni passati soprattutto l'agibilità perché prima non c'era sì, sicuramente l'agibilità è chiaro che ormai per le opere che facciamo sono molto strette e lavoriamo in una maniera veramente un po' antipatica quindi per questo io in prima persona e voglio dire ringraziare anche tutto il consiglio comunale un anno fa abbiamo inserito nel piano triennale una nuova cittadella da realizzare al Corso Italia in attesa della nuova cittadella sono otto i cantieri in concorso impegnati da settimane nei riqualificati capannoni della cittadella del carnevale a modellare i grandi mascheroni in cartapesta da assemblare sui grandi carri illuminati da migliaia di luci colorate e da complessi sistemi idraulici di movimento capaci di esaltare queste vere e proprie opere d'arte apprezzate dalle migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e da oltre lo stretto il più bel carnevale di Sicilia di Ecireale rimane la più importante manifestazione del genere dell'isola e tra le più ammirate d'Europa l'assessore a turismo Antonio Coniglio diciamo che i nostri caristi ancora una volta ci hanno sorpreso sono partiti un po' in ritardo per via dei lavori che però hanno consegnato loro degli spazi più dignitosi rispetto al passato e però diciamo che hanno recuperato il tempo perduto sono andati oltre e quest'anno ci sarà uno spettacolo straordinario come è proprio la tradizione del più bel carnevale di Sicilia l'attenzione dell'amministrazione comunale sul carnevale non conosce soste e da qualche anno opera anche una commissione tecnico-artistica il cui ruolo principale è quello di venire incontro alle esigenze quotidiane dei carristi diciamo che c'è l'occhio vigile di tutti i cantieri ormai c'è una grande collaborazione rispetto a prima la pulizia è veramente migliorata a livello di struttura anche grazie alla presidenza Coniglio abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione ora in settimana si metterà il cancello nuovo l'ingresso e si farà una pulizia straordinaria per la visita delle scuole guidate e adesso torniamo a Giarre dove i locali dell'ex pretura serviranno prossimamente per ospitare gli uffici del giudice di pace Nicodemo si stanno accelerando i tempi a Giarre per il trasferimento dell'ufficio del giudice di pace nei locali dell'ex pretura ormai non più utilizzata chiuso l'iter burocratico per il consenso all'utilizzo dei locali si è provveduto al sopralluogo tecnico e alla verifica dei vari servizi da utilizzare per la nuova destinazione stando così le cose da parte dell'amministrazione e dei tecnici si comunica che a partire dal lunedì prossimo verrà iniziato il trasluogo dalla vecchia sede per la quale il comune pagava l'affitto alla nuova che è stata concessa in uso dal ministero il quale nota tecnica si riserve il diritto di utilizzo in qualsiasi momento ci fosse la necessità di farlo di tutti i locali infatti ancora nei rotterdani della struttura è allocato l'archivio la nuova destinazione del nuovo utilizzo avrà la disponibilità di molti ambienti del piano terra e nello stesso tempo ciò significherà un congruo risparmio da parte dell'amministrazione quindi della collettività visto che non si dovrà pagare affitto per questi locali ma solo la normale malutenzione non ci sono altre notizie si chiude qui questo appuntamento con l'informazione che potrete seguire tra poco sul sito retv.it sulla nostra pagina facebook vi lascio come di consueto alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 le previsioni meteo di venerdì 27 gennaio 2017 su Catania e provincia il tempo sarà prevalentemente buono qualche nube ma il sole dovrebbe avere la meglio i mari saranno tendenzialmente calmi le temperature previste tra minime e massime nella zona della Catanese oscilleranno tra 8 e 13 gradi il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 095 60 48 83 Grazie a tutti.